È un progetto che sostanzialmente ha fallito non per la sua validità, ma per chi lo ha interpretato sbagliando e compiendo scelte politiche che hanno dato un'idea sbagliata dell'Europa. Quindi noi non siamo contro l'Europa, siamo dell'idea che questa Europa debba essere profondamente modificata per tornare ad essere quel sogno che fu lanciato tanti anni fa. Grazie a tutti.